Antonio, buongiorno, mi hai portato qui da Pinocchio per parlare di cinema addirittura No, ma volevo dirti che io sto qua a Miami, lo sai, a mia vice per questo festival del cinema italiano No, 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 tu mi hai detto un'altra cosa, no, 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 mi hai detto un'altra cosa Mi hai detto che qui da Pinocchio c'è una ragazza, a proposito di cinema, uguale alla cucinotta Non ci credo Ma no, ma sì, insomma, è una ragazza che lavora È uguale Ma uguale, è mora, insomma, così, ma però non La possiamo vedere Ma no, ma parliamo del fesio Lorenzo, buongiorno Ciao, Forrado, buongiorno Scusa, ma è lei la famosa ragazza che era subito alla cucinotta? No, 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 si chiama Concetto Ma è uguale Sembra, ma si monta la testa anche questo Posso parlarci? Concetto, buongiorno Buongiorno Non sei la cucinotta? No, me lo dicono tutti Però sei siciliana, sento Però sono siciliana, sì Senti, questa cosa la stiamo facendo per l'edicolo a Fiore e Fiorello Allora un saluto ce lo fai in siciliano? E chi c'è a dire? Ciao Fiorello, se vieni a Miami ti faccio caffè Antonio, era uguale Era uguale Concetta No, era uguale Per me era la cucinotta Vabbè che siamo da Pinocchio Concetta Concetta No, era uguale No, era uguale No, era uguale